Un saluto a tutti e benvenuti nei Prime Day, due giorni di offerta 21-22 giugno 2021 in cui Amazon proporrà una grandissima serie di offerte Due giorni di offerte di ogni genere, ovviamente noi ci concentreremo su quelle di tecnologia Abbiamo già fatto un video dove vi spieghiamo quali sono le cose più importanti, lo trovate linkato anche in descrizione Ma non perdiamoci in altre parole, perché? Perché abbiamo passato gli ultimi giorni in modo incessante a controllare tutte le offerte una per una Abbiamo scelto per voi le 10 migliori offerte di tecnologia, quelle che proprio non dovreste perdervi Alcune rapidissime considerazioni prima di iniziare La prima considerazione è che per invece avere accesso a tutte le offerte più interessanti, non solo le 10 migliori Le potete trovare tutte nel nostro canale Telegram, le pubblicheremo via via in questi due giorni di offerte La seconda cosa invece è se volete avere un panorama completo su tutte le categorie di prodotti scontati Smartphone, notebook, tv, wearable e tutto quello che c'è attorno al mondo della tecnologia Trovate sempre in descrizione il link al nostro indice dove abbiamo realizzato delle pagine per categoria con tutte le migliori offerte Quindi ovviamente decisamente più di quelle 10 che vi sto per dire La terza premessa è che ovviamente avendo preparato questo video in anticipo non ho potuto verificare che le 10 offerte che vi sto raccontando oggi Siano andate online esattamente con questo sconto di cui vi parlo Quello che voglio dire è che molto probabilmente non ci saranno problemi ma se ci fosse qualche problema di prezzo Ovviamente non dipende da noi ma dipende dalle informazioni che Amazon ci ha fornite in anticipo Il primo prodotto di cui vi parlo è uno smartphone e fra tutti questi 10 prodotti è quello che ha lo sconto minore Ma è comunque il miglior smartphone che vi consiglio di acquistare per questo Prime Day 2021 Parlo del Redmi Note 10 Tra le altre cose scontati ci saranno anche il Redmi Note 10S e il Redmi Note 10 5G e il Redmi Note 10 Pro Trovate tutto ovviamente in descrizione Il Redmi Note 10 viene proposto a 159€ un prezzo veramente ghiottissimo per lo smartphone che è Come vi dicevo lo sconto è buono non il migliore anche perché era già stato giusto per circa un giorno qualche giorno fa scontato a questo prezzo Però comunque come ci ha detto anche Amazon questi saranno i prezzi più bassi dell'anno Quindi se volevate comprare un buon smartphone con eccellente rapporto qualità prezzo Beh Redmi Note 10 oggi a 159€ è veramente un buon dispositivo Se invece parliamo di wearable il dispositivo che abbiamo scelto per voi è Huawei Watch GT 2 Che non è recentissimo ma il prezzo a cui viene proposto solo 99€ e è sicuramente un prodotto fantastico Veramente uno smartwatch che ancora fa benissimo il suo lavoro e a quel prezzo è assolutamente un acquisto consigliato Altri dispositivi scontati li troverete ovviamente nella nostra guida Sono per esempio Samsung Galaxy Watch Active 2, TicWatch Pro, anche TicWatch Pro 3 e anche gli Apple Watch Serie 6 e Serie 3 Se siete interessati alla domotica non potete farvi sfuggire i nuovi Echo lanciati qualche mese fa da Amazon Sono ovviamente gli smart speaker dell'azienda Il prodotto che abbiamo selezionato noi per questi 10 è Echo Dot di quarta generazione Che verrà venduto a soli 24€ che è il prezzo più basso a cui questo prodotto è mai stato proposto Soltanto qualche mese fa c'era stato un accenno di questa cifra Poi però non era mai più tornato a questo prezzo quindi sicuramente un'offerta da non perdervi Se cercate altri prodotti Echo c'è scontato anche Echo normale, c'è Echo Dot con orologio Ma c'è anche Echo Show 8 sia nella vecchia versione che quella nuova Se si parla di domotica fra i prodotti scontati più interessanti trovate il robot spirapolvere Xiaomi a 199€ Kit di lampadine Philips Hue e anche la telecamera di sicurezza iDOM in Full HD che costerà soltanto 31€ Abbiamo scelto anche un TV per voi fra questi giorni di sconto Prime Day ed è l'LG OLED 55B16LA È uno Smart TV OLED quindi ovviamente la qualità in questo caso la diamo praticamente sotto intesa Un 55 pollici il cui prezzo di lestino è di 1699€ e che viene venduto oggi a 1099€ Il prezzo più basso a cui era ma stato venduto era 1199€ quindi comunque è un buon sconto rispetto al prezzo più basso di sempre Anche perché se invece teniamo di conto dei prezzi di listino ovviamente lo sconto sembrerà molto più grande Nella nostra lista c'è anche un notebook l'HP Pavilion 14 DV0001SL Che è un portatile a meno di 600€ ovvero 599€ è forse uno degli sconti più interessanti Perché? Perché è entrato in vendita da poco su Amazon e il prezzo di listino è ad oggi ancora mantenuto Quindi il confronto con i 749€ è ancora valido quindi meno 20% su questo notebook 14 pollici Veramente interessante Delle alternative comunque le abbiamo selezionate nel nostro articolo riassuntivo Un'altra offerta veramente fantastica è dedicata a chi sta cercando di rinnovare il proprio computer Parliamo del monitor LG 27UN880 ovviamente come capite dal nome è un display da 27 pollici IPS 4K Che è anche un braccio snodabile molto molto interessante Il prezzo di listino è 699€ ma viene venduto a 399€ che è veramente veramente un buon prezzo Considerando che il prezzo più basso a cui era stato venduto fino ad oggi era di 540€ Se siete dei gamer vi piacerà questa offerta di cui vi sto per parlare Sono le cuffie Logitech G635 sono delle cuffie a padiglione ovviamente con microfono Che possono funzionare sia cablate USB che cablate con jack audio da 3,5 Proposte a 79€ invece di 154€ di prezzo di listino Prezzo veramente molto 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 contenuto visto che il prezzo più basso ad oggi era stato di 99€ Ma parliamo di molti mesi fa 79€ veramente un prezzo eccellente E mi rivolgo ora sempre ai videogiocatori Un gioco molto interessante da recuperare se non l'avete mai giocato Mafia Definitive Edition Disponibile sia per Playstation che per Xbox Venduto a 21€ Il prezzo di listino ad oggi è di 40€ E tenete conto che fino all'altro giorno il prezzo più basso era 29€ Quindi comunque considerando il prezzo già contenuto rispetto agli altri prodotti Lo sconto è decisamente interessante Siamo quasi arrivati a fine vi parlo di Logite K400 Plus Che è una tastiera portatile wireless con tanto di trackpad e tasti del mouse Molto comodo soprattutto se avete poco spazio o se per esempio volete utilizzare questa tastiera sul vostro divano È il prodotto più economico di tutta questa selezione Parliamo di soli 19€ ed è il prezzo più basso mai raggiunto da questo prodotto su Amazon Il suo prezzo di listino originale che ovviamente è già stato abbattuto da diverso tempo è di 54€ E chiudiamo con un prodotto veramente eccellente delle cuffie True Wireless Le Jabra Elite 75T È uscito il modello nuovo ma questo modello qui rimane ancora uno standard Per quanto riguarda qualità, funzione e autonomia per quanto riguarda le cuffie True Wireless Sono scontate a 99€ da 179€ originali Ovviamente non sono vendute a prezzo stracciato Ma vi garantiamo che sono dei prodotti eccezionali E fino ad oggi il loro prezzo più basso su Amazon era stato di 129€ Quindi se volete comprare delle nuove cuffie True Wireless e potete spendere qualcosina E volete il prodotto migliore in circolazione Queste sono le cuffie da scegliere E questa era la nostra selezione dei 10 prodotti più interessanti Ovviamente ci sta che magari non abbiamo toccato argomenti a voi cari Magari non abbiamo parlato di memoria SSD O non abbiamo parlato di mouse O non abbiamo parlato di giochi da tavolo Di Lego oppure di tablet Di iPhone Ci sono tantissimi prodotti scontati Li trovate come vi ho detto Selezionati un po' per volta nel nostro canale Telegram Oppure per vostra consultazione tutti insieme Già divisi in categorie Soltanto i migliori prodotti Soltanto le migliori offerte Nel nostro indice per il Prime Day Grazie per averci seguito fino a qui